Si chiama o si fa chiamare Wisconsin Thief Diciamo che è una di quelle persone che fa parte del mondo a luci rosse e si è creato anche un profilo su Holyfans andando ad avere delle piccole parti in diverse pellicole Pensate che questa donna si è fatta con vero e proprio nome a 35 anni d'età e ha raccontato di abbracciare una nicchia di popolo che fa parte di cosiddetti uomini anziani Proprio quest'ora infatti hanno un successo clamoroso e lei stessa va a soddisfare le relative richieste arrivi e bizzarre Infatti la donna in questione ha fatto sapere che aveva molto il suo lavoro però gli era anche una richiesta nel passato di un cliente che voleva che fingesse di invidire contro altre donne Proprio questo signore gli ha chiesto di fare questo video perché per lui era qualcosa di molto eccitante e di piacevole Alla fine diciamo che questa donna non si perde l'animo ma ha trovato nel corso degli anni anche uomini piuttosto anziani che diciamo così facevano le richieste anche piuttosto assurde molto forse anche troppo esplicite Io non aggiungo l'altro vi faccio capire però che il mondo a luce rossa piace un po' a tutti grandi e piccoli grandi e giovani giovani e grandi maturi anche uomini che hanno un po' più di anni o l'età riescono ad avere questi momenti di piacere Il video termina qua iscrivetevi e commentate Ciao a tutti e una buona sera da tutti